Benvenuti, ciao a tutti e a tutti, bentornati alla Feltrinelli qui di Milano, in Piazza Piemonte, al secondo piano, al Feltrinelli Comics & Games. Oggi parliamo di un evento molto importante, perché parliamo di gioco da tavolo e di arte, di arte contemporanea. Perché? Perché la Farnesina, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Lucca, sono ritrovati, e insieme anche a DB Giochi, per il premio gioco inedito 2021. Ne parleremo oggi con degli esperti, ovvero con Paolo Cavinato, che è un artista, e con Yalmar Hak, che invece è un game designer. Ha fatto moltissimi giochi, tra cui forse ricorderete King's Dilemma, che è veramente un gioco molto bello. Ma prima, però, proprio per introdurre meglio la Fondazione Farnesina, che vi invito a visitare online e quando sarà possibile a visitare, ecco alcune parole, alcune introduzioni sulle opere presenti da parte di Angela Tecce, che poi rivedremo anche alla fine dell'intervento, che fa parte del Comitato Scientifico proprio della Fondazione Farnesina. Angela, a te la parola. Buongiorno a tutti. Sono molto contenta di fare questa chiacchierata a proposito di una collezione importantissima che la nostra Italia possiede. Ed è una collezione sui generis, perché è collocato in un palazzo istituzionale, un palazzo di grande importanza, quello del nostro Ministero degli Esteri, denominata la Farnesina. Già il palazzo è un'opera d'arte, perché è stata progettata tra prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale da un grande architetto del Debbio e poi ci hanno intervenuto tanti altri e il mio intervento non potrà essere una visita guidata a questo meraviglioso palazzo, alle sue decorazioni e soprattutto alla collezione che conta ormai 482 opere, tutte incomodato. significa che gli artisti si privano per un certo periodo di tempo di una loro opera per metterla a disposizione di un Ministero che finalmente promuove la nostra arte contemporanea. Quindi la mia carrellata, ripeto, non potrà essere esaustiva di tutte le ricchezze, di tutte le bellezze che ci sono. Io vi prego invece di consultare il bellissimo sito che il Ministero degli Esteri ha preparato con la collezione Farnesina e dove ci sono tutte le opere e anche tutte le formazioni necessarie a giocare con questa. Ecco, mi permetto di dire questa parola. E invece il nostro compito è quello di valorizzare questa importante collezione a tutti i pubblici che oggi possono goderne. Ripeto, il palazzo è già una bellissima e interessantissima opera d'arte. Davanti c'è un'opera, una grande sfera di uno dei nostri grandi scultori che è il Pomodoro. E all'interno il palazzo è ampiamente decorato anche da opere stabili. Per esempio, bellissimi mosaici di Toti Scialoia, un altro grande della nostra pittura nel dopoguerra. La collezione Farnesina è quasi tutta orientata a documentare l'arte del nostro secondo dopoguerra. Quindi come l'arte, insieme a tante altre cose, contribuiscono a portare il nostro paese da una condizione di estraneità al resto del mondo o forse più che di estraneità, di marginalità, invece al centro del dibattito. E una delle cose che voglio sottolineare è che proprio questa, che la nostra nazione è stata sempre nota per le sue bellezze, che sono innegabili, il nostro patrimonio paesaggistico, storico-artistico, eccetera. Ma che finalmente l'arte contemporanea riesca a dialogare al pari con le ricerche dei paesi europei e anche di oltralte è un motivo di grande orgoglio per la formazione di questa collezione. Vado avanti, oltre ai mosaici di Scialoia sono stati realizzati anche lavori, come si dice oggi, site specific, cioè pensati per quel posto. Uno di questi è la bellissima decorazione parietale di un altro maestro della nostra arte contemporanea che è Rimo Salvadori. O ancora una donna che sin dagli anni 50-60 del nostro dopoguerro e purtroppo fino a anni recenti quando è scomparsa, Carla Cardi, ha portato davvero il vessillo non solo di un'arte al femminile, ma soprattutto di una lingua nuova, una lingua astratta, ma con una grande qualità di colori, di segni e di memoria anche. Ho ancora una delle ricerche più interessanti a testimoniare, dilagare, sempre negli anni 60-70 della cosiddetta corrente informale, cioè quella che privilegiava il gesto, il colore rispetto alla figurazione, e il nostro, anche lui purtroppo maestro che non è più con noi, quindi Emilio Vedova, veneziano e notissimo nel mondo. O ancora, stiamo sempre parlando in modo random e passando quindi da tendenze che magari si sono svolte parallelamente nel corso del tempo, ma che sono molto diverse. Ecco, Enrico Bai, un maestro milanese, di una cosiddetta nuova modalità di figurazione. Quindi qui in questa Ninette de Valois la figura evocata non è rappresentata, è evocata con collage fatti di stoffe, di tappezzerie, di passamenerie. Andando ancora avanti, passiamo a una tendenza che ci ha resi questi famosi nel mondo e anche in America. Gianni Cunellis era un artista greco, il suo nome era Giannis, era nato ad Atene, al Pireo anzi, ma sin dagli anni Sessanta viene a studiare all'Accademia di Roma e lui si considera un artista italiano. È morto purtroppo nel 2017, ma è considerato, diciamo così, il capostipide di questa tendenza denominata arte povera, che significa per la rappresentazione, per la composizione del quadro, usare i materiali più diversi. Ecco, qui vedete ferro, sacchi, carbone, tutti i materiali che Cunellis sceglieva perché testimoniano del lavoro umano, del lavoro dell'uomo. Ho ancora un altro artista, anche lui, nato nella temperie dell'arte povera, Michelangelo Pistoletto, questa è un'opera un po' più tarda, del 76, e vedete che qui una figura classica, perché la memoria del classico nell'arte italiana è sempre presente, si specchia in uno specchio, che è un elemento tipico e privilegiato della ricerca di Pistoletto. Ho ancora un artista che anche lui nasce in un altro alveo concettuale che è quello della cosiddetta transavanguardia, cioè dopo gli anni dell'arte concettuale, dell'arte povera, il recupero anche di un'affigurazione che utilizza temi archetipici. Vedete qui non un dipinto di Paladino, che è un grande pittore, ma una sua scultura con un cavallo, che è un altro elemento tipico del suo lavoro, e un anche un cavaliere. Ho ancora un altro maestro, e purtroppo mi dispiace che stiamo citando tutti i maestri che sono scomparsi, Spalletti è scomparso appunto due anni fa, che in questa montagna, che stilizza la visione che dalla sua finestra al suo studio vicino Pescara, era un artista abruzzese, delinea il profilo di una montagna, l'opera si chiama appunto Montagna, Spalletti è invece un esponente di un'arte tacata, astratta, dove il colore, la grana del colore stesso, la sua profondità e la sua luce parlano da soli. O ancora un altro artista dissacrante, ma sempre anche giocoso, nel porgerci i suoi giochi di parole, vedete questo è un ossimoro sorvolante, lui infatti ha la faccia dipinta di nero, come un moro, perciò ossimoro, ma soprattutto è un artista che ha sempre giocato con la sua cultura di riferimento e anche con culture altre, la cultura indiana, eccetera, e con tanti stilemi in modo, come dire, estremamente colto, ma anche estremamente giocoso. Andiamo ancora avanti, un altro artista romano, vedete, lavora con un materiale speciale, la cera, questo è un dipinto tutto realizzato con una cera che riesce a raccontare senza più elementi di figurazione, però con grande profondità della luce dell'oro, tipiche della nostra cultura italiana. O ancora un artista come Alberto Di Fabio, che riprendendo in anni molto più recenti proprio la passione e la fedeltà alla cultura disegna questi corpi che mi verrebbe da dire corpi celesti che fluttuano nella materia delle sue tele. O invece, e qui passiamo radicalmente a un altro tipo di ricerca, un artista come Eugenio Giliberti, vedete che questi piccoli quadratini colorati rispettano delle sequenze di colori che sono sequenze numericamente dati e che rappresentano la giusta posizione, anzi le possibilità di giusta posizione enormemente numerose di alcuni quadratini colorati. E questo vi mostra come la riflessione concettuale sulla possibilità oggi del fare pittura e ancora come dire il cuore di tante ricerche di nostri artisti e passo ancora sempre scusandomi della velocità di questo mio racconto a questi ritagli di un'altra artista italiana di grande qualità anche se il suo lavoro è sempre sommesso, meditato. Questi sono ritagli perché è un artista che nella manualità di certe sue, come dire, idee recupera proprio il senso di riflettere sul fare arte oggi. Ho ancora un altro artista romano come Ruffo, Pietro Ruffo scusatemi e questo Mappamondo è un'opera che è un orgoglio della collezione farnesina perché su queste antiche mappe l'artista ritaglia poi altri elementi da culture diverse ma soprattutto riflettendo anche sui temi dell'oggi, le migrazioni che esistevano nel passato come esistono oggi. Quindi come dire, nella bellezza oggi sono contenuti tanti temi etici e l'arte contemporanea è molto attenta a questi temi, riflette, riflette sul nostro mondo e anche quindi sulle drammatiche contraddizioni del nostro mondo. Ma una disciplina che ormai non si può più considerare a parte dell'arte è la fotografia e la fotografia è molto rappresentata nella collezione farnesina. Io qui voglio mettere però la figura, l'immagine di un maestro, Mimmo Iodice, che veramente è stato tra coloro che sono riusciti a tragrettare un'arte considerata a servizio di e a farla divenire una disciplina, un linguaggio artistico al pari di tutti gli altri. E questa è un'immagine che è tratta da un lavoro seriale che l'artista ha fatto, seriale intendo dire che è una serie di immagini dedicata appunto al Mediterraneo, culla della nostra civiltà e oggi sede di scambi di cultura, di bellezza, ma anche sede, come dicevamo prima, di tanti conflitti. Ancora altri più giovani artisti che lavorano con il video, che lavorano con la fotografia, sono un duo bianco e valente e questa è un'immagine che vedete testimoni anche della loro attenzione attraverso il video al movimento e un video addirittura è stato commissionato dalla Farnesina stessa, una giovane artista italiana, Elena Bellantoni, che vedete ha fatto danzare il tango a due danzatori professionisti, però mascherati e in questa danza tra un uomo e una donna, tra due diciamo maschere animalici appunto tutta la tensione che il nostro mondo appunto oggi ci purtroppo offre. Ma un'opera di recente entrata nella nostra collezione e ne sono particolarmente fiera, orgogliosa, è quello del duo di artisti Oriana Persico e Salvatore Iaconesi che lavorano con l'intelligenza artificiale. Ecco, questa è un'opera che si chiama Obiettivo. La scrittura di questi dati continuerà attraverso appunto il rilevamento ottenuto appunto con l'intelligenza artificiale fino a che ci sarà povertà nel mondo. Quindi vedete come un'immagine che è così affascinante, accattivante, direi anche come dire bella, è piena di contenuti etici e propositivi per la risoluzione di tante difficili conflitti. Ancora un'opera dello stesso pistoletto che avevamo visto negli anni settanta, questa invece è un'opera che lui, ho voluto quasi chiudere il mio discorso con questo, i tavoli Love Difference, cioè intorno al profilo del mar Mediterraneo sono sistemate tante sedie, simboli delle culture diverse che su questo mare si affacciano e che devono, perché Pistoletto ha fondato anche una fondazione nel suo luogo di nascita, Biella, che promuove appunto l'arte come strumento di civiltà. Infine voglio chiudere con un'opera dell'artista che è con voi in studio oggi, Paolo Cabinato. Ecco, se vogliamo schematizzare come purtroppo ho dovuto fare finora, a questa si tratta appunto una di queste ricerche di artisti di oggi che attraverso la ricerca visuale, la ricerca di percorsi spaziali all'interno del quadro e non solo, perché Paolo Cabinato lavora anche nell'ambiente spaziale circostante, creano e cercano e ricercano una nuova relazione tra l'artista e lo spazio e soprattutto tra l'uomo e lo spazio. Vi ringrazio molto e vi saluto. Grazie mille Angela, grazie mille per questo preziosissimo contributo sulla collezione della Farnesina, ma entriamo un po' nel vivo di questo evento. Sono molto contento di essere qua con Paolo Cabinato e con Almar Ach, giusto? L'ho detto bene questa volta, spero. Yalmar, sì. Yalmar, perdonami, Yalmar Ach. Paolo è un artista che intanto espone anche alla, appunto, come abbiamo visto nella collezione della Farnesina, mentre Yalmar è un autore di ciò che è da tavolo che, insomma, ha alle spalle un paio di opere abbastanza importanti. È molto bello perché prima ancora di iniziare a parlare di questo evento, avevamo qualche dubbio su come accordare arte contemporanea e il gioco da tavolo, invece, appena ho iniziato a parlare, devo dire che avete trovato subito una sintonia. Lascerei a voi l'idea di introdurre come l'arte contemporanea e il gioco da tavolo hanno trovato questo spazio. L'arte contemporanea e l'arte sono la creazione di un mondo, quindi parlando con Yalmar ci siamo trovati in sintonia perché comunque anche il gioco è una creazione di un mondo che sia poi realizzato in diversi linguaggi ma comunque è sempre la costituzione di uno spazio mentale poi realizzato con diverse tecniche. Poi appunto abbiamo trovato un linguaggio comune affrontando diversi punti della creazione e anche di come viene usufruito il, diciamo, nel mio caso il prodotto e qui c'è sicuramente una differenza nel suo l'opera e abbiamo trovato appunto molti punti in comune anche a sorpresa di entrambi parlando delle opere l'uno delle opere dell'altro e ci siamo ritrovati appunto punto per punto nell'analisi di queste somiglianze e differenze che ci sono ci sono ovviamente delle differenze nell'ambito della creazione uno degli aspetti che abbiamo visto è quello dello spazio giusto? Sì infatti anche nella nella mia ricerca lo spazio diventa diventa fondamentale io mi rifaccio a certe regole rinascimentali della prospettiva appunto perché nella costruzione dello spazio nella visione della visione dello spazio ho bisogno di un linguaggio ho bisogno di regole per determinare questo spazio che cosa andrò a vedere prospettiva da prospettiva vedere chiaramente vedere attraverso il mio in un certo senso il mio gioco è quello di ricreare una una situazione in cui vari elementi si compongono in una in una scena in una visione infatti qui il pubblico anche il pubblico è portato e chiamato al gioco perché deve ricomporre questa immagine attraverso un visore che io pongo nello spazio espositivo ecco e le opere di Paolo sono spesso anche architettoniche come direzione e io penso che il game design sia una forma di architettura dove le pareti e i soffitti e i tagli sono le regole e lo spazio interno in cui vivono i giocatori è lo spazio del gioco la regola ti impedisce di uscire ti dice dove è una parete ed è stato predefinito precostruito uno spazio di esperienze limitato dalle regole e che dà la libertà al giocatore di muoversi nel tuo caso ad esempio certe volte è da un punto il diciamo lo spettatore ha un punto di vista predeterminato ma altre volte si muove anche giusto e affronta l'opera in maniera tridimensionale diciamo che diciamo che dal mio punto di vista le regole sono fondamentali nella progettazione nella progettazione dell'opera nella progettazione dell'installazione nel momento in cui io penso un'opera penso anche allo spazio dove viene dove essa deve essere esposta e quindi proposta al pubblico poi ovviamente le regole sono molto flessibili per il pubblico perché come dicevo prima io non voglio imporre delle situazioni cioè do dei suggerimenti con l'occhio del pubblico osservare l'opera e da lì nasce sempre qualcosa di diverso perché in effetti perdone in entrambi i casi parliamo di spazi in cui voi create un qualcosa che poi viene fruito giocato in entrambi i casi e il pubblico ci mette del suo il pubblico i giocatori ci mettono del loro assolutamente assolutamente è forse nel gioco appunto il designer è un po' più arretrato rispetto all'opera ma appunto come diceva lui c'è qualche cosa che sfugge al tuo controllo quando tu crei anche nell'ambito dei giochi quando tu crei un insieme di regole non sai quali sono tutte le possibili interazioni King's dilemma è un gioco costruito un po' come un libro game a bivi per cui le decisioni prese ti proiettano in una direzione piuttosto che in un'altra però in King's dilemma qui è proprio appunto evidente questo ma basti pensare agli scacchi anche negli scacchi ogni mossa ti porta a una mossa successiva a un'altra mossa cioè questo e chi ha inventato gli scacchi non sapeva tutti i giochi tutte le partite tutte le possibilità che erano comprese e all'interno del mondo degli scacchi quelli chiamati compositori che sono quelli che dispongono le pedine in una determinata maniera così che altri possano risolvere sono definiti artisti perché si inventano delle situazioni che sono belle esteticamente sono intelligenti ed è questo appunto uno crea uno spazio dentro cui gli altri si esprimono è vero io sono sono un po' critico nel senso che su questo aspetto perché ritorno al senso significato dell'arte che cos'è l'arte e che cos'è l'intrattenimento perché secondo me l'arte si discosta da questa da questa cosa dell'intrattenimento oggi siamo un po' un po' troppo abituati a confondere mescolare ciò che è creativo dal punto di vista appunto tecnico artigianale o appunto creativo nel senso di inventore di cose dal discorso artistico dell'arte nel senso forse secondo me è sempre un mio punto di vista l'arte ha un aspetto assolutamente di gioco un aspetto ludico un aspetto artigianale un aspetto di creazione ovviamente ma spesso questa creazione inizia da un'esperienza di sofferenza quindi nell'arte spesso la creazione è la cicatrice di una ferita anch'io sono ho avuto il mio percorso quando ero più giovane ero più diciamo più viscerale più espressivo in cui mettevo di più il mio io ultimamente negli ultimi anni ho un po' assottigliato questa mia particolarità e l'ho come dire ho assottigliato certe certe espressioni per far sì che l'altro mi venisse incontro o far sì che l'opera andasse incontro l'altro cioè per lasciare libera anche più libera interpretazione lasciare spazio all'altro perché l'arte ha questa cosa sociale fondamentale che è un e così anche il gioco ovviamente un un dialogo un dialogo con con l'altro un porre delle domande però ritornando a quello che stavo dicendo prima l'arte spesso parte da un punto da uno stravolgimento da una rottura da un punto di sofferenza la sofferenza perché era un gioco fondamentale magari in King's dilemma c'è stata e qui abbiamo trovato il punto diciamo di distanza più grande tra i due mondi e la ragione per cui appunto non si può definire probabilmente artista un game designer perché appunto è molto più arretrato rispetto all'opera e sì ha una funzione comunicativa comunque differente il game designer più che appunto mettiti di fronte all'anima alla sua anima magari ti può portare delle riflessioni interessanti perché il gioco credo che sia un bellissimo strumento anche di autoanalisi però è chiaro che non ha quel tipo di pretesa dell'arte però comunque penso che il gioco possa essere arte parliamo infatti di arte senso specifico l'arte cos'è l'arte oggi l'arte contemporanea e le arti beh io da questo punto di vista vorrei raccontare un paio di storie senza voler implicare nulla rispetto a allora la prima è una cosa molto personale in realtà ma è un momento in treno in cui giocavo a scacchi con mio padre avevo 9-10 anni e io e mio padre abbiamo giocato a scacchi spesso nella vita e lui non mi ha mai lasciato vincere è sempre stato sempre giocato al meglio delle sue possibilità delle sue capacità e quella fu la prima volta che fu in grado di batterlo e piansi disperatamente perché avevo appena ucciso mio padre è vero era appena successa quella cosa per cui lui da dio era diventato uomo e tutto questo su un un palco teatrale dei pezzi degli scacchi con quel cavallo con quella regina con quel re in un'estetica a scacchi in un'estetica fatta di spazi confinati e di grande razionalità e certezza non c'era margine per negare quello che era successo non avevo un dado da incolpare non avevo una carta estratta male c'era solo la mia mente e quella di mio padre proiettata in un mondo astratto in cui lo aveva appena ucciso e è un momento significativo nella mia vita che passa attraverso appunto questo piccolo mondo astratto questo piccolo luogo che è la scacchiera però vedi lì allora torniamo al tema della sofferenza perché comunque ti sei messa a piangere in un momento anche di sofferenza sì ma è il giocatore che ha la sofferenza è il giocatore che ha l'emozione non chi ha creato gli scacchi è un facilitatore chi ha creato gli scacchi è un facilitatore chi crea il gioco però anche l'artista può essere un facilitatore di emozioni anche se anche se parte da una prospettiva molto più sua in certi momenti l'artista ci dà anche un qualcosa su cui far uscire può far esplodere qualcosa di nostro come nel gioco Enzo Cucchi ad esempio questo pittore della Tresa Vanguardia diceva che i quadri i quadri le opere perché lui è soprattutto pittore anche scultore ma soprattutto pittore i quadri che hanno valore sono quelli che ti guardano con i loro occhi sono come degli animali sono degli esseri viventi io volevo chiedervi una cosa anche legata un po' al tema per cui siamo qua il premio del concorso per creare un gioco da tavolo legato al museo della Farnesina secondo voi il gioco può essere anche un buon modo per veicolare l'arte per aprire l'arte anche a un pubblico più grande ditemi voi cominci a pure te ma sì assolutamente può essere un fattore di promozione può assolutamente incuriosire i piccoli i grandi ad un mondo magari poco conosciuto il gioco può essere fattore di esplorativo fattore di conoscitivo per incuriosire poi è ovvio che ci deve essere il passaggio successivo che è quello della rimane quello della conoscenza dello studio della profondità io appunto mi chiedo che cosa si inventeranno questa è la mia domanda è interessante perché se uno si pone veramente la domanda di come facilitare la connessione fra un pubblico che non conosce una cosa e quella cosa attraverso un gioco cioè come lo fai che scelte faranno anche perché deve rimanere un gioco appunto non è che deve essere soltanto un libro d'arte assolutamente cioè deve essere un gioco e quindi no nel senso mi chiedo veramente che cosa faranno e ho la curiosità di scoprire in questo senso la creatività di questi autori a che cosa porterà poi mi piacerebbe chiudere anche con un'altra similitudine comunque sia l'arte che il gioco hanno le loro mode le loro correnti vivono comunque il tempo presente io vi vorrei chiedere un'ultima piccola riflessione entrambi su cosa in questo momento dice il gioco da tavolo e cosa dice l'arte in questo momento almeno da quello che vedete voi in giro lo so che mi rendo conto è un tema grosso soprattutto a livello artistico però secondo voi quali sono le correnti in entrambi i campi ma allora io non posso parlare di correnti però posso parlare delle cose che ho fatto io il mio primo gioco fotosintesis quel rapporto tra microcosmo macrocosmo nel gioco tu non muovi i pezzi non attacchi mangiando è un gioco su un bosco e un sole che gira attorno al bosco e gli alberi proiettano le ombre è come giocare a scacchi ma i pezzi non si muovono non mangiano ma la loro ombra influisce sugli altri pezzi degli scacchi c'è un concetto bellissimo quindi in realtà rappresenta un nuovo tipo di battaglia una battaglia de-responsabilizzata economica quindi io ti tolgo risorse ma non perché vengo nel tuo paese con i carri armati e con i fucili ma perché la mia ombra si proietta sul tuo paese e tu non mangi semplicemente perché io esisto non perché ti sto attaccando dall'altro lato invece King's Dilemma che è l'ultimo gioco grosso che ho pubblicato assieme a Lorenzo Silva come coautore lì parla proprio di politica parla delle scelte delle scelte difficili come in un momento di pandemia tieni aperto tieni aperto e lasci che tutti lavorino ma sacrifichi le vite delle persone che si ammalano per salvare o cercare di salvare l'economia ma sarà bene o sarà male è un gioco in cui sostanzialmente si prendono decisioni politiche e ci si rende conto di come l'egoismo cioè si fatichi poi si fatichi a prendere la decisione giusta perché c'è sempre qualcosa di collaterale c'è sempre qualcosa che ti traina in un'altra direzione nell'arte io sto riflettendo molto il periodo che stiamo vivendo il periodo di pandemia di lockdown che cos'è quest'arte che che vediamo oggi perché oggi siamo così abituati nelle nostre case nelle nostre stanze a vedere a a a vedere l'arte attraverso lo smartphone quindi in un certo senso non vedo l'ora di ritornare anche se non sarà la realtà di prima la vita di prima ma non vedo l'ora di ritornare al momento in cui riusciremo a vedere gli oggetti perché io realizzo proprio delle delle sculture realizzo delle delle installazioni ho bisogno di toccarle ho bisogno di di come pubblico mi metto dalla parte del pubblico ho bisogno di 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 vedere queste cose da più punti di vista e quindi di fruire la ciò che ciò che è l'altro in un certo senso perché arte è anche altro è l'incontro con l'altro sì e in questo senso noi siamo invece la la rinascita dell'analogico cioè il gioco da tavolo è proprio un movimento opposto alla dimensione digitale della digitalizzazione è proprio il ritorno al cartoncino al pezzo di legno e allo stare seduti attorno a un tavolo e immaginare e in realtà il successo di questa di questo ambito che si sta allargando si sta diffondendo va proprio cioè molti si chiederanno ma com'è possibile che in un mondo in cui avrei scommesso tutto su una totale digitalizzazione c'è l'epoca d'oro l'era d'oro dei giochi da tavolo ma c'è sempre un ritorno a qualcosa quando sei troppo verso il digitale è perché c'è la solitudine c'è la solitudine probabilmente io penso a questo e questo secondo me è una delle ragioni per cui il gioco da tavolo ha ancora così tanto spazio perché si ricava un momento sì che ci manca perché proprio siamo assieme attorno a un tavolo e ricondividiamo una matericità dell'esperienza e nel senso collettivo ed è quello che tu dici a me manca questo no? e ho paura che l'arte vada sempre di più nella direzione del digitale e io penso che non succederà proprio perché anche nell'ambito artistico ci sarà sempre di nuovo quel richiamo sì ci potrebbe essere un momento in cui ci spingiamo verso il digitale ma avremo sempre bisogno di tornare a un certo punto di tornare assieme sì forse c'è questo aspetto umano che è la voglia del condividere fisicamente di vedere una mostra assieme di assaporare qualcosa e molte cose non sono comunicabili è come se il mondo digitale ci promettesse di poter comunicare tutto ma in realtà non lo può fare essere presenti nel luogo è percepire i materiali come non li puoi percepire attraverso una fotografia è sentire la stanza sentirsi nella stanza percepire la luce come non puoi percepirla dal digitale infatti per me è fondamentale in questo senso è fondamentale quando realizzo delle opere è fondamentale la progettazione dello spazio espositivo perché in questo senso deve voglio che sia un'esperienza io vi ringrazio è stata veramente una bellissima conversazione sono veramente molto contento di averla fatto spero piaccia anche a chi ci sta vedendo adesso per concludere torniamo un attimo ad Angela per qualche considerazione finale le vorrei chiedere alcune piccole riflessioni magari appunto su ciò che è emerso tra gli ambiti artistici e quelli del gioco in particolare magari del gioco da tavolo secondo lei quali sono i punti in comune che sono stati un po' affrontati beh io vi ringrazio molto di aver potuto partecipare a questa discussione perché ho imparato tanto anch'io perché purtroppo non sono una grande appassionata di gioco da tavola non si preoccupi magari poi lo sarà fra un po' eh magari lo diventerò ma quello che voglio sottolineare è che l'arte contemporanea oggi è come dire tante cose insieme fortunatamente come avevo detto io e come ha ripetuto Paolo non c'è più quella distanza che una volta connotava il grande il grande pubblico era poco appassionato connotava la percezione dell'arte contemporanea come una cosa un po' a parte per addetti ai lavori distante distante invece questa percezione fortunatamente è molto cambiata negli ultimi tempi non voglio dire che l'arte contemporanea è diventata di massa però sicuramente si sono allargati i pubblici di riferimento e questa è una cosa che mi rende felice perché io mi occupo di questo da tutta la vita quindi da tantissimo tantissimo tempo perché per lei comunque tra arte e gioco c'è un legame abbastanza stretto se vogliamo spesso l'arte contemporanea di oggi è un gioco molto molto serio perché affronta temi che a volte sono drammatici e siccome gli artisti sono delle io dico che sono dei termometri sensibilissimi ovviamente sono attentissimi a tutto questo però sì la dimensione del gioco noi lo sappiamo per i bambini il gioco è un'attività serissima gioco non vuol dire scherzo gioco vuol dire applicazione metodo e l'arte contemporanea lo contiene ecco io credo che perciò che è importante che voi facciate vedere tante immagini che chi parteciperà alla ideazione di questo nuovo gioco veramente si si metta a giocare con con una possibilità di abbiamo visto di e una gamma di espressioni che che sono tantissime e e soprattutto rifletta sulle parole che ha detto Paolo che è un artista e quindi io ringrazio molto Paolo e ringrazio tutti gli artisti che mi hanno insegnato tanto sull'arte contemporanea e spero che lo insegnino anche ai giovani che parteciperanno alla vostra selezione perfetto grazie mille grazie mille Angela per questo preziosissimo contributo e ringrazio anche voi che ci avete visto e che ci avete seguito quindi dallo spazio Feltrinelli Comics and Games qui a Milano io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima occasione ciao a tutti a tutte grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti